Non so che ancora sia stata una bellissima partita, il primo tempo è brutto, d'altronde un derby dove avevamo giocato domenica, la condizione era anche un po' precaria per tutte e due le squadre, quindi non è stato fatto un bel primo tempo. Il secondo tempo, dopo il gol nostro, si rifacizzata un po' la partita, però ritengo che il risultato sia quello più giusto per quello che si è visto in campo, due squadre che si sono battute però l'equilibrio ha regnato per tutta la partita, quindi penso che il risultato di parità sia quello più giusto.